Ci sono quelle persone che tengono la mano di chi accanto a loro e promettono un per sempre. Ci sono persone che stringono la mano di qualcuno, perché il loro per sempre è un non voler restare da soli. Ci sono persone che avranno la fortuna di gioire guardando gli occhi di chi hanno accanto, giorno dopo giorno, e persone che giorno dopo giorno sentiranno sempre più lontano chi dovrebbero avere accanto. Ci sono persone che demordono e accettano quello che ormai ritengono sia il loro destino. Ci sono persone che reagiscono. Perché sanno che la prima persona che bisogna amare è e sarà sempre se stessi. Sono quelle persone che cercano una via di fuga per tornare a sorridere. Oggi dove sei? Ti sento distante da qui. Come mai? Chiedi dove vai? Ma non riesci neanche a vedere dove stai. Centomille passi da me, dal mio cuore e dalle mie esigenze. Non capisci neanche il perché, non vedi le distanze. Nella nostra storia ti ho cercato io, tu in cerca della gloria, io ho pregato Dio. Solo affronterò questo momento, ricomincerò. Partirò da zero costruendo quello che non ho. Cercherò di nuovo quel che ho perso, forse troverò. Tutto quello che ora in me non sento, ricomincerò da capo. Sento dentro me crescere di nuovo la voglia di rinascere. Penso un po' più a me, mi concedo sfizi che prima non potevo avere. Centomille scelte per me, per pensare alle mie esigenze. Non mi chiedo neanche il perché, prendo le distanze. Ora, in questa storia, il futuro è mio. Cercherò la gloria, come dico io. Solo affronterò questo momento, ricomincerò. Partirò da zero costruendo quello che non ho. Cercherò di nuovo quel che ho perso, forse troverò. Tutto quello che ora in me non sento, ricomincerò da capo.